Davide Calonico è il presidente del consorzio Topics che da decenni si occupa di infrastrutturare il territorio sulla banda larga. Quest'anno festeggiamo effettivamente i 20 anni e continuiamo a limitare, a mitigare il divario digitale sul territorio, lavorando anche con il territorio, i comuni, la città metropolitana e tutti quelli che hanno a cuore questo tema in uno sviluppo che è diventato sempre più importante. Infrastrutturare il territorio contro il digital divide significa portare la montagna e le valli in città? Significa creare un ecosistema dove un territorio viene valorizzato anche con tutto quello che la tecnologia può fornire, con la comunicazione, superando l'isolamento delle persone e permettendo alle persone anche di creare degli stili di vita che sono anche in armonia con la propria tradizione, con la propria storia e con i territori che amano e oggi senza il digitale diventa difficile lavorare per tutta una serie di professioni. Quindi è importante continuare su questa strada che è sicuramente complessa ma che non deve, nonostante, vederci insomma rallentare il passo che deve essere sempre un pochino di corsa e non, come dire, di lumaca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.